A maggio, ad aprile di quest'anno Paolo Maddalena invitò i giuristi italiani a dare la propria disponibilità per un gruppo giuridico permanente dal nome giuristi per l'azione popolare che in realtà avesse il compito, non potendo la Corte Costituzionale agire in automatico ma solo su richiesta, avesse il compito duplice di poter adire alla Corte Costituzionale laddove ci fossero principi profili di incostituzionalità rilevati e di poter fare in modo che questo accesso alla giustizia di questo tipo fosse un accesso molto più facile da parte delle organizzazioni e delle persone. Questo lo scopo fu chiesto ai giuristi per l'azione popolare di farlo in maniera gratuita anche a tempo o giusto con le spese vive perché questa operazione nascesse. Il 14 maggio a Napoli i giuristi per l'azione popolare hanno fatto il loro primo intervento con l'introduzione di Antonio Ingroia a Napoli, in ogni città per l'attuazione della Costituzione sono intervenuti ma in realtà hanno di fatto già lavorato in gruppo e già fatto due delle cose che oggi presenteremo e che sono il lavoro pre e post approvazione della legge sui vaccini e il lavoro per il Forlanini di Roma come azione popolare. Quindi io passo la parola a Giuseppe Libutti, poi a Stefano Stefano perché queste due cose vi siano note e più o meno vi danno anche le indicazioni di quello che si potrebbe fare a livello giudiziario e giuridico. Grazie a tutti, sarò brevissimo perché siamo tutti stanchi dopo questi due giorni. Chi come, dove, quando e perché. I giuristi per l'azione popolare sono una parte di questo percorso, nascono da un appello fatto dal professor Paolo Maddalena il quale ci dice che il fine culturale di diffusione di questo pensiero non è sufficiente ma bisogna agire in giudizio, in giudizio per riportare la legalità costituzionale. Quella che dovrebbe far sì che chi ci governa legiferi nell'interesse non proprio ma nell'interesse della collettività. tutti quanti come avvocati, mi preme dirlo, ci siamo avvicinati a questo percorso con lo spirito che ci ha tramandato l'avvocato e padre costituente Calamandrei che oltre a studiare come fanno tutti gli avvocati ci porta a vivere con il cuore e con l'altruismo le istanze portateci dai cittadini che andiamo a incontrare e che si vedono sopraffatti da una legislazione che non rispetta la costituzione e i loro diritti. Quindi non è più il tempo di chiacchiere è il momento di agire. La prima azione che io vado a presentare che è già pronta per essere iscritta al ruolo è quella che riguarda la vendita del Forlanini di Roma ed è vendita o svendita del Forlanini di Roma. È l'applicazione di tutto quello che abbiamo visto accade in Europa del pensiero neoliberale e neoliberista per cui il Fondo Monetario Internazionale e le banche dettano la linea politica che poi viene recepita dall'Europa ed imposta alla nazione italiana. In questo caso è la svendita di un bene nostro, il Forlanini. Il Forlanini di Roma basta cliccare su Wikipedia per vedere. È stato polo mondiale nel campo della pneumologia, centro di riferimento per il mondo. È stato lasciato in uno stato di abbandono e degrado e questo stato di abbandono e degrado ha fatto sì che invece di essere riqualificato è stato posto in vendita. Il tempo è brevissimo, lascio parte dell'iter amministrativo e c'è da dire che però questo iter procedimentale che ha portato alla vendita ha escluso totalmente i cittadini del quartiere che non sono stati ascoltati su che idea avessero di un polo così importante all'interno del quartiere. È stato detto da parte della regione Lazio che ora ne è proprietaria dobbiamo valorizzare il compendo immobiliare. Quando in Italia dicono valorizzare un immobile vuol dire vendere, se va male svendere e questo è il caso del Forlanini. È stato stabilito un prezzo per una vendita a trattativa privata di 70 milioni di euro. Inizialmente viene detto fissiamo questo prezzo di 70 milioni di euro perché destiniamo questo bene alla cittadella della pubblica amministrazione. In realtà nella delibera di vendita non è previsto alcun vincolo per chi compra, chi anzi potrà fare compra a un prezzo scontato ma potrà fare quello che crede. Poi in realtà viene detto guardate per diminuire i costi delle locazioni passive noi vendiamo questo bene. Allora il bene che è tuo tu lo vendi e pagherai un affitto ad un'altra persona. Qui c'entra quello che dice il professor Maddalena stiamo vendendo il nostro patrimonio e avremo il paradosso di uno Stato senza più proprietà che sarà governato solo da leggi internazionali e non più dalla legge del proprio Stato di pertinenza. Ci stanno ulteriori violazioni quale quella che il Forlanini è sottoposto ai sensi articolo 10 al vincolo storico ambientale dei beni culturali e questo fa sì che il bene per essere venduto debba avere l'approvazione del ministero competente, del MIBAC, cosa che nel caso di specie non è per niente avvenuto. In pratica cosa è successo? Abbiamo un bene del patrimonio indisponibile che è il bene direttamente funzionale a perseguimento di interessi pubblici, sono gli uffici, le pertinenze degli uffici, è stato declassato a patrimonio disponibile così da poterne consentire la vendita per perseguire comunque un fine pubblico perché è la cittadella della pubblica amministrazione. Questo è potuto avvenire grazie alla legge che descrive molto bene il professor Maddalena nel suo libro, la 133 del 2008, siamo governo Berlusconi. C'è da dire che però si sono sosseguiti dalla cartoralizzazione in poi una certa continuità di leggi sul patrimonio immobiliare che non hanno tenuto rispetto alla salvaguardia del patrimonio stesso, sia che siano stati governi di cosiddetta centro-sinistra o governi di destra. Capite bene i profili di incostituzionalità in questo caso sono diversi e molteplici. C'è la violazione dell'articolo 97 della Costituzione, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, c'è la violazione dell'articolo 3 della ragionevolezza così come viene elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, c'è la violazione dell'articolo 9, la salvaguardia appunto del paesaggio e dei beni che ci appartengono. Quest'azione così come semplicemente vi ho descritto ci auguriamo possa essere la prima azione della neonata, oppure che sta per nascere, associazione che andiamo a costituire. Non vi rubo altro tempo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. altro saranno arrivati al punto che dicono solo di IMU ci costa quello che ci costa per cui lo svendiamo, ci mancherebbe però questo aspetto che bisogna dimostrare che tu non ci rimetti cioè deve essere in qualche modo deve essere in balance mi fermo no e la questione a monte è che il bene è tutelato a prescindere dall'aspetto economico e no e c'è una violazione appunto costituzionale per cui noi questo aspetto andiamo a impugnare poi possiamo rifiutare la logica che un bene se è produttivo ha un valore, se è una risorsa per la collettività che non produce moneta non è un valore e beh è questo che dobbiamo assolutamente assolutamente ma questo l'ho scritto anche non può essere certo adotta come giustificazione per la vendita il fatto che giace nel più completo stato di abbandono, quello è un aggravante per la politica che ha ridotto il bene in uno stato di abbandono è certo quindi questo sì è assolutamente vero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti